Ognuno, ognuno, stiamo dirigendo verso la pallaccia. Io, Pagiano, Bilingo e Petty e le quattro signorine qua che ci accompagnano. Come fai l'orologio, dai! Basta quella! Hai visto che si può entrare anche da sotto? Sì, sì, ho visto! C'è una strada, ma Pagiano ha detto no, no! Facciamo anche il livello, non c'è nulla! A lui, o qua c'è un livello! Fa un livello Grazie a tutti 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 Grazie a tutti